Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati in 7 days to die, the survival of the crafting game. Come un saluto io sono Veloce Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, ce l'ho fatta, ho trovato il Baker facendo delle missioni, anzi, realmente la missione della scorsa puntata che volevo fare off camera. Il trader mi ha dato la possibilità di scegliere anche il Baker, vi metto qua le immagini in sovraimpressione, il video in sovraimpressione, e ho scelto il Baker, quindi abbiamo il Baker, ma non è tutto, ogni puntata di 7 days to die ci regala delle emozioni, ci regala cose nuove, ci regala delle scoperte, ci regala delle cose strane, ebbene, soprattutto ci fa divertire, ebbene, allora l'idea è di iniziare subito, vi ricordo di supportare il canale con un mi piace, un commento, una condivisione, esiste la pagina Facebook per seguire, praticamente ogni giorno, ogni volta che esce un video, la pagina Facebook vi avvisa, esiste la pagina Instagram, meme, cagatine, sondaggio, un po' di tutto, esiste il gruppo Telegram per parlare direttamente con me, e con altri, con gli altri iscritti. Detto questo amici, direi che ci vediamo in game. Ed eccoci in game, sono fuori dal trade, ma non dal solito trade, ma da un altro trade, e ho completato un'ulteriore missione, missione che faccio offline, perché così almeno ci portiamo avanti. Sono andato da questo trade per una cosa basilare, noi innanzitutto vediamo se qua ha qualcosa per cose interessanti. Il nostro emix è vuoto, qua nella workbench ci sono dei bullet tape, cosa interessante, qua nel vending machine non c'è mai una mazza, ma lui potrebbe avere qualcosa di interessante, andiamo a vedere, dove è il trade? Ah, è di qua! Sì, allora, vedete il trade è già diverso. Allora, vediamo cosa ha nell'inventario. Mi sono portato dietro, sicuramente questi, così glieli vendiamo e recuperiamo dei token. Ma abbiamo anche queste cose qua, gold nugget e silver nugget, che si trovano in giro. Cosa ci facciamo? Che le possiamo vendere per ricavare un bel po' di granella. Siamo a 7139, 7 punti da spendere, e sappiamo come spenderli. Attenzione, vediamo qua cosa c'ha. Shotgun turret, auto turret, mining gun, steel pickaxe, qua ha robe incredibili. Ha anche la moto sega, quindi vedete come hanno delle cose importanti. Allora, moto sega di livello 1, ce la compriamo, chi se ne frega, che può essere utile. E poi qua, con 5.900, potremmo prendere o il shotgun turret, o l'auto turret. E il shotgun turret mi piace, direi di comprarlo. Facciamo la shotgun. Poi, nell'inventario, guardate cos'ho. Ho il blue spruce seed. Credo che sia, immagino, un albero blu. L'ho trovato in giro, ed è fantastico. Quindi ho detto, glielo devo far vedere, ovviamente, e vediamo un po', non credo che sarà uguale agli altri, ma vedremo. Ci sono altre cose che ha questo amico qui, anche il paintbrush, ma li abbiamo, comunque li possiamo fare. Una di queste, me la comprerei, visto che ce l'abbiamo, il cemento ce l'abbiamo, queste cose non ci servono, macete, reperchiette, tutte cose che abbiamo. Qua, ok, qua, eh, qua, se potremmo prendere, ad esempio, un po' di queste robe qua, ci potrebbero servire, però facciamo finta di nulla. E a questo punto, ci dirigiamo, sapete dove? All'altro trade. All'altro trade, per completare, ovviamente, le missioni. Sono già contento, già subito adesso, con le cose che abbiamo preso qua. Ma, andiamo all'altro trade, 1,6 km, per completare la missione, un'altra missione che ho fatto off camera. Vediamo cosa ci dà. Poi abbiamo, punti esperienza da spendere, torniamo alla base, perché dobbiamo fare, altre cose. Ed eccoci qua arrivati, parcheggiamo la nostra bellissima moto. E, amici, anche sui veicoli, ci siamo, per un ulteriore upgrade. La luce... No! Dov'è che cavolo stai andando? Allora, andiamo da lui. Ah, vedete che ce ne dà un altro. E io me ne prendo un altro. Ci dà 10.000 di XP, e 1.400... Un altro Baker. Va bene. Vediamo... Sì, facciamo... Fletch, va più che bene. Ovviamente lo farò off camera. Vediamo se ha qualcosa. In realtà non credo, perché comunque gli abbiamo fottuto tutto. Qualcosa interessante. Shotgun shell. Potrebbero essere utili per la nostra torretta? Spendiamo soldi, ovviamente. Ma ci sta... Che cos'è sto qua? For grip. Ok. Abbiamo un military vest. Abbiamo una blade trap, ma in realtà avevamo visto che la blade trap si fa abbastanza facilmente. Vediamo un po'... Sì, nulla di che. La possiamo tranquillamente fare, perché in realtà volevo, amici, per la prossima luna rossa. sapete dove avevamo fatto... Va bene, lui non ha più niente da darci. Sapete dove avevamo fatto l'ultima volta luna rossa che avevamo... Avevo. Un po' organizzato quella trappola che poi non è andata a buon fine con la trappola là. Ecco, avevo in mente con due o tre blade trap fare un altro generatore, mettere lì le blade trap, due o tre, e attirare gli zombie verso le blade trap. Magari fare tipo una colonnina con le blade trap attorno, in maniera tale che gli zombie vengono verso di noi e le blade trap si tritano. Vogliamo il ragù di zombie. Vediamo se ce la facciamo un giorno 27. In realtà mancano due giorni, scarsi. Ah, e qua, tra l'altro la missione la faremo. Nulla di che. E ovviamente questa era l'idea che mi era venuta. Un po' un'idea malsana, però secondo me potrebbe funzionare. Scrivetemi nei commenti come secondo voi è meglio fare questa trappolina per gli zombie fatta ad hoc per la luna rossa. Potremmo fare un'arena per la luna rossa un po' alla volta, costruendola un po' alla volta, un po' come volevo già fare. E magari quello spiazzo lì è anche utilizzabile bene per fare questa cosa qua. potrebbe essere una cosa molto interessante e una cosa da fare assolutissimamente vorrei piantare l'albero questo qua. Dovrebbe essere questo punto lo pianto qua. Vediamo come cresce lo vedremo con il tempo ma andiamo avanti perché bisogna fare un bel po' di cose iniziamo subito allora ho trovato anche un crossbow quindi volevo craftarlo in realtà l'ho trovato tra l'altro di livello 6 non male amici possiamo fare Daryl Dixon adesso quindi ci vanno comode anche tutte queste munizioni qua che avevamo e sti cavoli mamma mia potentissimo però andiamo avanti e andiamo in ordine dunque qua anzi non qua ma qua intanto ho acceso la fornace anzi adesso la spegniamo anche perché non ho paura allora da questa parte qui iniziamo subito c'è un fortifying grip che ho trovato in giro e anche se non erro non mi ricordo più cosa facciamo che li tiro su tutti questi belli upgrade perché ci potrebbero servire per la mazza allora facciamo un modify e guardate qua allora radio remover per rimodere radiazione non è che ci interessa la struttura al brand e il fortifying grip un attimo fortifying grip ci aumenta meli damage e power damage e questo struttura al brace ce l'aumento ulteriore la mazza definitiva cioè veramente possiamo fare complete è la nostra mazza definitiva che fa male assurdo ha dei bonus clamorosi guardate fantastico e questa è la prima cosa mettiamo via tutte le altre cose che non ci interessano no questa c'è insomma la tengo la moto sega anzi bisognerebbe caricarla anche in realtà bisognerebbe caricarla perché è vuota bisognerebbe caricarla perché è vuota carichiamo ok che bel suono non lo sentivo dall'alfa 16 ma andiamo a vedere le skill vedete che un po' la volta le facciamo skill allora skill andiamo a spendere dei punti allora ci serve un punto su qua allora you can craft advanced firearm ammunition can use tier 3 schematics potremmo fare questo oppure amici qua craft shotgun turret rocket launcher e nail gun io direi di spenderlo qua tac perfetto a questo punto grace monkey siamo arrivati al livello per cui possiamo fare il 4x4 tracks compriamolo e abbiamo speso due punti e adesso andiamo a vedere così il track come si fa allora si fa con le well che sono le solite cose la batteria e l'engine che le abbiamo si fa con lo chassis che ci vuole 300 di forge steel quindi mi metterò a fare il forge steel mechanical parts duct tape leather elettronical parts e poi abbiamo gli accessori che si fanno così allora in realtà possiamo farlo nella prossima puntata secondo me se non c'è già la luna rossa facciamo il 4x4 track ma vorrei fare in questa puntata adesso che si può la chemistry station con tutte queste cose qua allora ci servono due baker andiamo a prendere due baker ne abbiamo ben tre adesso prima non ne avevamo adesso ne abbiamo anche di più di quelli che servono burning barrel lo abbiamo non l'abbiamo burning barrel ce l'avevamo il burning barrel ci manca un burning barrel ci manca un burning barrel abbiamo il gas barrel si può fare il burning potuto barrel si si può fare tre forge d'iron e wood allora tre forge d'iron forse li abbiamo qui si e il wood l'abbiamo non nell'inventario ma sicuramente qui perfetto e ce ne facciamo uno di questi qua burning barrel burning barrel eccolo qua ne craftiamo uno perché ce ne serve uno ok meno male poi cooking pot tre ne abbiamo ne abbiamo sette tre cooking pot poi che cosa ci serve per fare la chemistry station short iron pipe 15 e poi legno a volontà short iron pipe ne abbiamo un fottio e legno a volontà ne ho preso già un fottio quindi va bene eccolo qua tac chemistry station craftiamola e finalmente abbiamo la chemistry station che ci permetterà di fare un bel po' di cosine dovete vedere bellissimo cioè praticamente funziona come questi qua solo che quando arrivano i nemici spara fantastico non la userei per la luna rossa ma la userei direttamente per la base ditemi amici dove la volete questa torretta dove vi piace più metterla ovviamente non in alto è una torretta da mettere a terra che spara appena arrivano gli zombie questo è quello che fa quindi ditemi un po' voi dove la volete chemistry station però amici eccola qua io volevo metterla qua da qualche parte però in realtà mi sa che qua non ci abbiamo spazio se non qui però copre un po' il macchinario e non mi piace qua il letto fa un po' schifo potremmo metterla qua però in effetti la nostra bellissima chemistry station potremmo metterla qua così magari da questa parte qua si è buggata si è buggata sulla motosega si era buggata sulla motosega e abbiamo la nostra chemistry station che ci permette di fare quello che volevo cioè il paint che in realtà abbiamo già ma ne voglio fare altro poi altro altro ho trovato altri coloranti ho comprato anche uno speaker che non serve per sentire la musica ma ci dovrebbe avvisare degli zombie ho trovato anche un iron door quindi off camera ho trovato un bel po' di cosucce molto interessanti molto interessanti che sto continuando a collezionare e secondo me prima o poi amici prima o poi riusciamo a fare anzi stiamo già facendo delle cose fantastiche allora andiamo a prendere questo 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 già che ci siamo il paint e un bel paint brush andiamo qua acqua sporca abbiamo quantità andiamo qui ok ci serve però del carburante prendiamo in prestito direi un po' di coal non tantissimo ma quello giusto che ci serve magari una trentina di pezzi giusto per averli mettiamo il coal perfetto e a questo punto possiamo mixare e fare la vernice perché ce ne serve veramente un fottio di vernice con le restante cose le metto via con le restante cose che italiano amo le restanti cose le metto via mamma mia devo stare attento a parlare di italiano perché c'è qualcuno che si offende quindi stiamo molto attenti e ok devo dire che secondo me abbiamo tutto quello che ci serve per iniziare a colorare e inizierei vediamo un po' dalla torretta magari e dalla torretta poi vediamo come farli intanto qua ovviamente ce li fa no non qua scusate ma qua bella quando va è bellissima ovviamente ce li sta facendo guardate qua un po' alla volta ce li fa vedete questo e mi sento qualcuno vi do un indizio ed eccoci qua sopra la torretta dunque vediamo un po' come farla poi per finire anche questa torretta e l'altra ma un po' alla volta le faremo allora premiamo R e vediamo come possiamo sia avere un texture picker cioè se noi ad esempio volessimo farlo dello stesso colore qua andiamo qua col texture picker e lui ce lo trova quindi è comodo oppure possiamo guardate qua possiamo andare sul paint roller per farlo credo di più oppure colorare tutta la struttura oppure materials e sceglierci i materiali ecco questo qua non so se vi ricordate nell'alfa 16 dovevamo sbloccarli in realtà qua già ci sono ora di che colore lo facciamo di che colore guardate possiamo anche tipo il legno colorarlo come se fosse del metallo cosa che mi piace qualcuno di voi mi ha detto yamon fallo di camo cioè col camo flash quel colore qua però secondo me starebbe bene o di vedete metal windows secondo me sta bene cioè proprio d'acciaio oppure così oppure ne avevo visto un altro vedete cioè wood paneling in questo così oppure metal reinforced wood che sembra rinforzato in realtà la struttura non è assolutissimamente rinforzata oppure ci sono quelli da interno ora bisognerebbe capire come oppure la facciamo alla vecchia maniera cioè di stone selezioniamo questo andiamo qua tasto destro e guardate qua se mettiamo il caso che diciamo no è una cagatina tasto sinistro e lui e lui la cancella è veramente fantastico cioè fantastico allora di che colore la facciamo questo è il vero dilemma la torretta la facciamo magari shock con un colore shock tipo metal red la facciamo tipo rossa la torretta tutta rossa sarebbe male tutta rossa la torretta poi magari un'altra torretta la facciamo di un altro colore una di un altro colore potremmo chiamare la torretta rossa la torretta blu la torretta verde non è un'idea malsana era l'idea che volevo proseguire fare subito anzi all'inizio però voglio anche sapere da voi intanto che andiamo a vedere qua un watt fa un fottuto watt servono un sacco di solar panel che tra l'altro nessuno dei due aveva più e sicuramente non me li fa craftare ancora perché dobbiamo sbloccarli ecco la casa di che colore la facciamo ditemi voi ve lo rifaccio vedere giusto per in questa puntata allora abbiamo tutti questi ok allora giusto per nei commenti se volete scrivete tipo pagina 1 che è questa la pagina 1 pagina 2 che è questa pagina 3 che è questa e contateli ad esempio questo è l'1 questo è il 2 il 3 il 4 il 5 il 6 il 7 l'8 il 9 il 10 l'11 12 13 14 e così via ditemi il colore che volete della casa oppure di altre cose ditemi tipo la stanza dei motori falla del numero 70 della pagina 1 il 25 oppure della pagina 2 il 1 o della pagina 2 il 3 ditemi voi e questa è la pagina 3 avete capito? molto bene ora vorrei provare così con voi questo qua paint roller eh no così l'ho cancellato eh lo fa molto di più guardate wow fantastico 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 sì diciamo che per colorare tante pareti è ottimo però diciamo anche che è meglio usare questo perché altrimenti in alcuni casi ad esempio in queste altrimenti coloriamo tutto devo dire che la torre rossa mi piace molto questa l'altra magari la facciamo che ne so verde di che colore la facciamo l'altra magari verde per no non c'è gialla e pink o pink o viola direi ditemelo voi nei commenti vediamo un po' anche perché altri colori non è che ci sono ci sono questi colori alla fine non ce ne sono sì c'è concrete blu il green qua vabbè scrivetemelo voi nei commenti le altre torri e sarò ben lieto di farle vedete che i commenti servono anche a questo ovviamente per fare le cose anche ovviamente il paese tutta rossa tutta rossa la torretta assolutissimamente rossa anche l'esterno è veramente tutta rossa mi metto un po' di pingela ok forse qua bisogna anche coprire il buco altrimenti c'è un passaggio per dentro la casa che non sarebbe male in effetti ma bisogna sistemare ci sono un sacco di cose da sistemare veramente tante 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 molte di più molte di più di quello che pensate ora vi faccio vedere una cosa molto interessante che mi piace molto di seven days to die questa la coloriamo la volevo colorare quello dietro però vabbè anche questo va bene la scaletta è giusto che si colori guardate che bello allora innanzitutto stavo cadendo allora guardate qua il rosso non è rosso rosso è un po' slavato ma guardate il dettaglio del rosso ha quel colore sbiadito usato povero cioè che ha perso colore e questo crea tanto guardate che bella la torretta così crea molto molto e molto quindi è fantastico questa cosa qua veramente fantastica e mi piace un sacco i colori di seven days to die ora amici io sono qua che mi cimento nella pittura artistica per rendere la nostra base più bella e consumo vedete il paint ne consumiamo abbastanza guardate 840 una pennellata ne consumiamo uno che sembra poco ma in realtà è tanto perché pensate di colorare la casa gli interni e tutte le altre cose ci vuole veramente tanto e ci vuole veramente tanta vernice per quello che mi serviva la chemistry station per fare tutta questa fottuta vernice ma amici allora io direi che per questa puntata tinteggiatoria mista chimica mista abbiamo trovato robe interessanti è tutto vi voglio ricordare di lasciare un bel like un commento c'è un mi piace un commento una condivisione supportate il canale che non prende neanche un euro esiste la pagina facebook esiste la pagina instagram esiste il gruppo telegram e ditemi anche tutto quello che vi ho detto e in più se volete colorare e penso che lo farò tutta la torretta fino in basso perché così sta meglio fino in basso assolutissimamente ma per questo video è tutto da Amrugia tutto ciao e al prossimo fottuto video ciao a tutti grazie a tutti